Non ho mai partecipato a certe manifestazioni, a certe manifestazioni non mi avete mai visto, ho diffuso soltanto realtà e verità. Il governo non mi ha ascoltato, non ha preso presente quello che ho fatto, ho pensato che scenderò in politica per forza di cose, perché nel momento in cui il governo non ha ascoltato, bisogna scendere in politica con un movimento aggregativo per cacciare da certe persone, da certe poltrone, persone come Luca Atenese che non sono degne di governarci. Quindi io invito tutti gli italiani ben pensanti a scendere a candidarsi per cacciare persone come Luca Atenese non degne di governarci.